Qui dietro alle mie spalle sta nascendo il centro di urno La Casa di Enzo. A fine mese inizieremo i lavori, dopo il tempo che purtroppo ci siamo fermati per quanto riguarda il discorso pandemia e per quanto riguarda anche il discorso dei fondi, finalmente ci siamo riusciti. Inizieremo a fine maggio i lavori che dureranno circa fino a settembre-ottobre. La Casa di Enzo è semplicemente una casa in cui andranno a vivere i nostri ragazzi disabili. Un centro di urno e un dopo di noi, dove loro potranno gestire il loro futuro e il loro presente. Saranno due strutture diverse, separati, dove il giorno faranno attività, cucina e passeranno le giornate come non possono fare a casa. Mentre dietro ci sarà il notturno, dove dormiranno. Naturalmente questa sarà una struttura dove ci saranno assistenti, che comunque controlleranno e faranno assistenza ai ragazzi disabili. Sono 12-13 anni che comunque siamo sul territorio e facciamo molto per i nostri figli, per i ragazzi del territorio. Nel 2018 abbiamo presentato un progetto per questa casa, la futura casa di Enzo. Ci siamo adoperati facendo eventi, 5x1000 e ci siamo anche autofinanziati. Questa è una struttura che costerà a fine lavori intorno alle 430-450 mila euro, perché è una struttura comunque di 430 metri quadri. Fino ad ora noi possiamo fare la metà, perché i fondi siamo riusciti a trovare la metà. Quando riusciremo a fare la struttura che partirà, come diceva Mauro, il 31 maggio, noi confidiamo sul fatto che una volta che sarà visibile a tutti i residenti di Fiumicino e anche e soprattutto al comune e ai facoltosi, magari qualcuno ci tenderà una mano, qualcuno ci potrà dare dei sovvenzionamenti, dei finanziamenti e crederà in più come noi in questo progetto. Volevo ringraziare naturalmente l'amministrazione comunale, il sindaco Esterino Montino, per averci dato il permesso di costruzione di questa struttura. Volevo ringraziare anche l'Alitalia Ollus, che ha partecipato a darci dei fondi per iniziare il cantiere in sicurezza e tutta l'associazione, tutti i genitori che hanno contribuito e ci siamo autofinanziati, insieme ai piccoli sponsor che comunque ci aiutano. Grazie.